Il venerdì 30 settembre alle ore 21 sempre presso l'Aula Magna del Convitto Nazionale Delfico in Piazza Dante aprirà il Coro Verdi come tradizione, occuperà poco spazio per fare ospitalità agli altri poi ci sarà un Coro di Chieti, Coro Contemporari Novus e infine la Scuola Cantorum Pacini di Adri il sabato ci sarà questa giornata di studio, alle 15.30 del pomeriggio ci saranno delle audizioni aperte a tutti i giovani fino ai 30 anni per la formazione di un nuovo Coro regionale alla sera poi ci sarà il Coro di Abason di Roma e il Coro Vocalia Consort sempre di Roma diretto da Marco Berrini la domenica alle ore 12 presso il Duomo la consueta partecipazione alla solennizzazione della messa da parte dei cori che hanno partecipato a questa rassegna la nostra sede storica, tradizionale è stata dichiarata inagibile ci siamo un po' guardati negli occhi, che facciamo, che non facciamo io lascio immaginare proprio nel pieno dell'organizzazione a 10-12 giorni dalla data però alla fine proprio guardandoci senza parlare magari negli occhi abbiamo detto no dobbiamo andare avanti, dobbiamo superare questa difficoltà e la supereremo